vi è rimasto del cotechino e volete prepararlo in un modo insolito e gustoso che fare ci pensa natalia prepariamo insieme fagottini di pasta a filo con cotechino per prima cosa rosoliamo il cotechino in padella solo con gli odori poi andremo ad aggiungere le patate già lessate preparato il ripieno adesso facciamo i fagottini mentre i fagottini cuociono nel forno noi prepariamo la crema di lenticchie ecco i miei fagottini di pasta a filo con cotechino fine ciao 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 ciao